Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc. Che fai? Ipnotizzi gli iscritti? Scrivete nei commenti, la scossa puzzano i piedi. Veramente sto sperimentando una cosa molto in voga tra il nostro pubblico. Ah, la noia è diventata di moda. Non senti? Questo è un video di tic toc. E questo è uno che è caduto dal seggiolone da piccolo. Non funziona così, tic toc. Io ho sbagliato tutto. La mia vita non è altro che un'interminabile catena di errori. Fermi là! Vi ho visti che state per chiudere il video e cancellare l'iscrizione al canale. Volete un tic toc? Vi darò un tic toc. Tu sai come si fa? Ovviamente no! Ma su internet mica devi sapere quello che stai facendo, no? Rieccoci, amici! Grazie a WikiHow ora sappiamo tutto su tic toc. Allora, musica, check. Effetti speciali, check. Muovere le labbra senza cantare, check. Questo tic toc fa schifo, senza offesa. Come fa a piacervi? Non è questo il pubblico che voglio, ma forse è quello che merito. Avete detto tic toc? Io non ho mai ballato. Voi non avete visto niente. Non mettete mi piace e non condividete. Al mio tre non ricorderete nulla. Uno, due, tre.